Vieni Andrea questa sera. Va bene, io vado al donno tra un'ora. Salutamela comunque. Brutte notizie? No, è al solito. Ho una stupida nausea che non mi passa. È ufficiale. Sono incinta. Un venerdì risolvo tutto. La dottoressa mi ha detto che dopo mi basta solo il fine settimana riposo. Che c'è? C'è scanalizzata. Sono cose che capitano. Lo so anch'io. Erda, brucia. Grazie, Ruth. Se non ci fossi io, non lo farebbe nessuno. Andrea, la Renault. Se non ci sarebbe lui. Io non ci conterai molto. L'aspirina è di sul comodino. Grazie, seno tesoro. Di niente. Ci vediamo dopo. Bene, Andrea, questa sera. Grazie. 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 Grazie.